E carissimi amici e amiche, oggi è doveroso dire qualche parola specifica anche sul caso di Liliana Resinovic che, benché non vi siano ovviamente novità di lievo, però la novità consiste nell'atteggiamento sia dell'informazione e sto vedendo che sta accadendo qualcosa di molto spiacevole, che alcuni tasti è come se non si dovessero toccare alcuni argomenti è come se non facesse piacere e quindi io questo video di oggi lo titolerei Quella pista non sa da seguire, quindi diciamo un titolo di manzoniana memoria dai promessi sposi quando esistevano i cosiddetti bravi, che poi bravi non erano che praticamente ammonivano in maniera nemmeno pelata, diciamo il povero Don Abbondio che il matrimonio non sa da fare. Ora oggi con tutti questi social, con tutti questi sistemi informativi, ci sono persone che fanno capire come questa pista, la pista del denaro non sa da seguire. Io lo noto innanzitutto in alcuni commenti, in alcuni commenti che stanno anche sotto ai miei video, anche qualche mail in cui delle persone che magari si qualificano anche come ascoltatori del canale, che in una maniera pelata si dice ma sono argomenti scomodi, meglio non toccare certi argomenti perché queste sono persone pericolose. Insomma niente di esplicito per carità, ma c'è la percezione che questo tasto dolente sia veramente da non toccare. Ed allora questo fa male perché significa che c'è nella cultura della nostra società la convinzione che, diciamo, questo atteggiamento delinquenziale di alcuni gruppi, di alcuni soggetti debba andare avanti per cui finché si parla del più e del meno, delle cose frivole, si può dire di tutto e di più. Quando si comincia a parlare di cose serie sembra che questo dia fastidio. Quindi va bene che si parli della soppopera che ha lasciato la lettera di addio, non l'ha lasciato, se andava d'accordo col marito, non andava d'accordo col marito, le chiavi, le chiavi, aveva le chiavi, non aveva le chiavi, come era vestita, come era l'espressione in quella foto, la ricerca sul divorzio, la ricerca sulle case da trovare in affitto. Ma voleva cambiare vita, non voleva cambiare vita. Il nido d'amore, il nido d'amore, il nido d'amore, il nido d'amore. Poi non va bene quando chiedi altro. Quando fai cadere, ecco, il velo che copre questa squallida storia di denaro, e allora non va bene nemmeno quando dici cose minime. Cioè, quando fai notare che se un incontro avviene al cimitero nell'agosto 2021, dopo tanto tempo che non c'eravamo incontrati, capita ad agosto 2021 questo fatidico incontro al cimitero, come mai poi già un anno prima, nell'agosto 2020, c'era stato un altro incontro nel camioncino fuori al cimitero, addirittura visto dalle forze dei carabinieri di polizia, perché era il periodo covid. Come mai, come mai, se non c'era nessun tipo di interazione, c'era una Liliana Resinovic all'interno del camioncino, posto fuori al cimitero, sempre in zone del tutto isolate. Era per uno spritz? Può darsi, se si può credere che questa persona possa essere andata lì per uno spritz? O c'era altro. O c'era altro. Come mai, ad esempio, si chiede questo nido d'amore balzato alle cronache decentemente e che è una barzelletta in sé, ma una barzelletta triste, triste proprio. Cioè la ex sede della Marathon, una sede chiusa, una sede polverosa, senza utenze, né acqua, né luce, che si vuole spacciare come nido d'amore dove i anziani piccioncelli andavano lì a attubare, insomma, a baciarsi, a fare cosa, a fare cosa. E allora finché si parla di questo si può parlare. Ma se si dice, ma queste chiavi dell'ex sede Marathon che aveva la Liliana Resinovic, perché le aveva? andava a fare cosa? Cosa si andava a fare ogni tanto in quella sede? Cosa andava a fare? Cosa andava a fare ogni tanto in quella sede? Come pure quando si chiede perché, perché gli aiuti, chiamiamoli aiuti, che Liliana Resinovic faceva, tante volte spesso, sempre a fratello, ai nipoti, telefono qui, orologi, telefono, da zia, e agli amici, contributo agli amici, lavori, la tavernetta, le cose, si dice, soldi qua, soldi là. Ma perché questi soldi? Venivano dati comunque tutti in contanti, mai tramite carte, assegni, bonifici, no? Nessun movimento bancario. Come mai non c'erano movimenti bancari? Come mai tanti soldi senza movimenti bancari? Come mai tanti soldi senza movimenti bancari? Come mai? Come mai? Ma se quelle telecamere che noi abbiamo visto riprendere il tragetto della Resinovic da casa sua fino a Piazzale Gioberti avessero avuto una memoria di mesi e mesi, sicuramente noi facendo un po' una marcia indietro avremmo, secondo me, visto che la Liliana Resinovic anche altre volte, forse sporadicamente, usciva in questo modo. Ogni volta che doveva avere incontro con persone dalle quali non farsi riconoscere. Certamente io credo, da quello po' che ho potuto capire, che la situazione, sia all'interno della coppia, ma in generale nello status proprio della vita della Resinovic, qualcosa era cambiato da quando erano andati in pensione, poi il periodo Covid sicuramente aveva peggiorato e quindi se noi mettiamo questa crisi con i cattivi consiglieri, che ognuno e me ci ha dei cattivi consiglieri, poi se mettiamo la necessità di, nonostante tutto, di voler mantenere lo stile di vita e di voler continuare ad aiutare massicciamente, sempre più massicciamente la famiglia che stava magari in difficoltà, da dove venivano questi aiuti, cosa si doveva fare, forse qualcosa di, diciamo che, di qualcosa che poi è andata a finire male, diciamo così. Non si può dire qual era, quale fosse quel segnale qualunque esso sia, dammi un segnale, qualsiasi esso sia, qual era il contenuto di quella famosa telefonata delle 8 e 22? No, quella pista non sa da seguire, quella pista non sa da seguire e quindi un segnale non è arrivato, no. E allora si dice che nessuno sapeva, nessuno sospettava, tutti sapevano, secondo me, tutti sospettavano, tutti si dovevano domandare ma questi soldi da dove vengono, vengono soldi dalla pensione. Non è che si faceva come dice quella pseudoveggente della Gisella Scarpulla là che faceva la moltiplicazione degli gnocchi e qua invece si faceva la moltiplicazione del denaro. Forse era un denaro che si prendeva e non finiva più, forse è un fatto miracoloso anche in questo campo qui. Non si deve dire, non si deve parlare. Parliamo della storia d'amore, del nido d'amore, parliamo dell'innamoramento e il suicidio. E parliamo del suicidio perché il suicidio ovviamente teoricamente regge soltanto se lo si colloca al 3-4 gennaio in quanto se lo si non può essere. Ma il 3-4 gennaio purtroppo è solo una collocazione temporanea del suicidio perché il suicidio ovviamente non può essere perché lo stanno a testimoniare alcuni parametri. Perché ad esempio quegli insetti morti stanno a smentire tutto. Quelle tante formiche morte addosso stanno a smentire che il corpo non è morto lì. Il corpo non è morto lì perché le formiche stavano tutte addosso morte già. Ho fatto l'ipotesi nel video di ieri forse stava il corpo da qualche altra parte, hanno fatto un uso improprio, forse di otto idrossichinolina, per cercare di mandare via queste formiche che sono rimaste a decine e a decine attaccate. Ma io parlo di uso improprio perché evidentemente questo corpo non è stato pulito bene da dove stava e quindi alcune sono rimaste attaccate nelle parti dove il corpo aveva cominciato la decomposizione, quindi alle mani, ai polsi, alle caviglie, ai piedi, proprio nelle parti dove era iniziata la decomposizione sono rimaste attaccate queste formiche mostre. Quindi è chiaro che non è il suicidio, però scriviamo per suicidio e vediamo che se non si è scrive per suicidio perché quello Sebastiano era geloso chissà cosa ha fatto, quindi delle due luna. O Sebastiano ha agito chissà come per fare qualcosa, di gelosia alla sua giovane età, oppure suicidio. Altre ipotesi no perché altrimenti poi scrivono i messaggi ma chi te lo fa fare? Può essere una cosa pericolosa. Una cosa pericolosa può essere pure per chi scrive certi messaggi che vengono automaticamente analizzati da chi di dovere. Quindi a me dispiace, dispiace, dispiace sicuramente per questa donna di cui fra poco non se ne parlerà più. sia però chiaro, un'ultima cosa, che la Resinovic, scusate l'espressione ma ogni tanto ci vuole, se ne sbatteva dei sogni d'amore alla grande. Amava la sua vita, la sua libertà. Non avrebbe certo aspettato 63 anni per mettersi con un 83enne, se voleva fare il sogno d'amore. Se lei voleva fare un sogno d'amore diverso, lo avrebbe fatto 20-30 anni prima. Questo è il punto e questo è il basta. Forse Serpin era amico per altre motivazioni, le stesse motivazioni magari dette nelle circa mille telefonate. Ecco, oggi, oggi, vedi proprio oggi, il 12 di aprile, è la festa del 171esimo anniversario della fondazione del corpo di polizia, del corpo della polizia di stato, che unitamente ai carabinieri, che sono colore ai quali noi dobbiamo credere, dobbiamo credere, non credere nei delinquenti, che potrebbero zittire anche l'informazione. A me questo dispiace. Grazie, un abbraccio a tutti quanti voi, seguitemi sempre, ci vedremo a giornate, finché questo caso non verrà concluso. E non ci vuole poi tanto. Ciao a tutti.